Questo è il parco giochi, vedete? In stato di abbandono. Questo parco per i bambini è stato conquistato dalla cittadinanza ed è autogestito dai genitori. Vedete? E' ancora di vieto d'accesso dopo più di tre mesi. Allora qui io sto incontrando della gente che viene nel mio quartiere a farsi le passeggiate. E si permettono di sindacare con me che ci vivo? L'ultima è stata pochi minuti fa ma non avevo pronta la telecamera perché adesso vado in giro con la telecamera e le persone devono dirmi quello che hanno voglia di dirmi davanti a una telecamera se hanno coraggio. Perché io ho il coraggio di quello che dico, di quello che faccio. Cosa mi ha risposto? L'ennesima arpia che sono tutte donne. Che schifo che fate, non siete neanche donne. Non ho da definirvi. Siete maschi mal riusciti? Mi ha detto che lei non ha bisogno dell'ordinanza. Ok, non ha bisogno lei dell'ordinanza. Io sì.